Siamo pronti, siamo prontissimi, il grande debutto che sta per arrivare a teatro con questo giovanotto Cuspe! Cusnefe! Siamo nel regno di Dino Piacetti, io ormai dormo qua da dieci giorni e niente, siamo per debuttare Peppi, Peppi, Peppi! Peppi Hour! L'Happy Hour c'è Peppi Hour! Certo, è un happy hour con una base alcolica ma anche con altro, con il divertimento, quello che fa inebriare È un party show, è un party show quindi in questo periodo di grandissima crisi, che a tutti quanti si chianghiano in gol Noi vorremmo fare in una serata in cui non si piange più, si ride soltanto Io e Lello Marangio che è Cusurafè, il famoso Cusurafè Spolze che sta andando, che ricorda questo simpatico appuntamento Senti ma qual è il teatro? Qual è il teatro fortunato ad ospitare questo Peppi Hour? Il teatro delle Palme, il teatro delle Palme che avvia dei mille, avvia dei mille a Napoli Che è facilissimo arrivarci con la ZATL, grazie Con la ZATL, no, con la ZATL! Con la ZATL si arriva al teatro! Al teatro? Delle Palme! Delle Palme! Delle Palme! Siamo stati tranquilli! E finalmente Weekend Dance è la televisione ufficiale, il programma ufficiale di Peppi Hour! Che ha delle Palme, l'abbiamo detto, però... Delle Palme! Non mi fa male, però non mi fa male! Niente, io penso che si ride molto con Peppi Hour, tutti quelli che vedono Weekend Dance Sono tutti invitati, tutti! Ah, buongi invitati, cioè nel senso che loro vengono... Invitati! Ma non è che ci saranno... Il costo è per le vostre tasche, dai? Sì, sì, è per le tasche di tutti che dopo venite da me e poi dopo andate nei posti di Weekend Dance Nelle discoteche, alla mattina, quella sera... Peppi Hour, possiamo dare un infoline, magari per altre informazioni e acquisto di biglietti per il teatro? Delle Palme? Allora, sito del Delle Palme, il sito del Teatro Delle Palme, che sarà un teatrodellepalme.it.com Tante di quelle cose, sui miei canali tipo Facebook, Twitter, tutte le cose, che tutte le pre-vendite abituali E poi c'è qualcosa chiamata Dino Piacenti Ma soprattutto portate i soldini a me che vi do il biglietto per andare da lui Bravi, 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 diciamo che è un passaggio di proprietà Cioè, vi c'è da Issa, si mette a me e poi c'è da un grado da Issa che non qua va alle ritorne, diciamo così Però, verità, divertì Una sera, volete ridere? È il mio nuovo spettacolo E vi invito veramente tutti Cioè, invito che i soldi Che i soldi Mi penso che non già facciamo più che chissimi stai stupendo, veramente Allora, dal 13 febbraio con Peppe Jodice Peppe Auer al teatro delle bande Aaaaaah Aaaaaah